Mijia Rabbar, Chiara Mettelli for Hotcorn, la facciamo in italiano però. Va bene. Mijia, hai già lavorato come animatore in Frozen 1, giusto. Com'è stato ritornare per Frozen 2? Per quanto sono passati nel film, sono tre anni, per noi sono stati sei anni. Comunque appena ho cominciato ad animare, li sentivo già ai personaggi. Sai una cosa che succede è che quando cominci un film, normalmente cominci a conoscere i personaggi più verso la metà, alla fine del film. Quindi arriva alla fine del film, chiudi tutto e ti rendi conto che adesso conosco il personaggio al 100%. E quindi cominciare Frozen 2 era un po' ritrovare i personaggi che conoscevo già e riprenderli in mano e vedere cosa faranno nella loro nuova avventura. Che poi sono personaggi che entrano nella tua vita, immagino. Loro e le canzoni soprattutto. Parliamo della canzone perché questa mattina ci hanno fatto ascoltare la presentazione Into the Unknown, che è la nuova canzone e che penso avrà almeno altrettanto successo quanto la prima perché è ancora piaciuta molto. È rimasta in testa, la sto canticchiando. L'avete ascoltata solo una volta? Sì, eh sì. Noi abbiamo già ascoltata mille. No, ma è potente. Penso che le musiche quest'anno, in questo film qua, saranno incredibili. Cioè tanta gente mi aveva chiesto se saranno come nel primo film. Non voglio dire meglio, ma ce ne sono un paio veramente, veramente belle, potenti. Spero che la traduzione... Ricordo che le canzoni erano state tradotte bene in italiano per il primo film. Speriamo che mantengano questa forza. Eh sì, hanno un buon team di tipo. Solo quella avete visto? L'avete visto anche, avete sentito? Abbiamo sentito qualcosina, l'altra di Olaf nella foresta, che canta questa canzone che dice quando cresceremo, traduco, quando cresceremo tutto diventerà assolutamente più chiaro, qualcosa del genere. Capiremo tutto. Che io, infatti, l'ho chiesto prima ai registi se erano ironici o meno, loro dicevano che erano in senso ottimista. Dicevano, vabbè, non so. Non so se è proprio così, tu cosa ne pensi? Quando si cresce si capisce... Dovrebbe essere più semplice tutto, invece tutto è sempre più complicato. E per quanto riguarda il primo Frozen, quando ti sei trovato a lavorare, hai visto quel... cioè quando hai visto il successo che hai ottenuto, mi chiedo se riuscite a prevedere... se riuscite a prevedere che avrebbe avuto così tanto impatto sull'audience che... Per il primo? Sì. No, era stata una sorpresa per noi, per lo studio, per tutti. Ripuntare di nuovo a un musical era una scelta... Tanti anni si erano passati, però era il momento giusto, la gente sentiva il bisogno, aveva dei ricordi. Credo che sia stata una sorpresa anche per me. Non desideravo un musical e poi mi è piaciuto. Ora vedremo chi è l'audience di questo secondo film. Saranno di nuovo le ragazzine o le persone che hanno visto il primo e che rientranno a vedere il secondo? Se riusciremo a prendere una nuova generazione di bambini, di ragazzine, è differente. Vedremo, è interessante. E come animatore, quanti siete gli animatori che avete lavorato in questo Frozen 2? Non so dirti il numero esatto, però penso 80, solo tantina. Dunque, diciamo, nel tuo ruolo quanti minuti poi vai a coprire? Per cui sono cose... Dipende da quando si entra in produzione, ma diciamo che intorno al minuto, minuto e mezzo ciascuno. Lavoro pazzesco. Sì, diciamo in sei mesi, otto mesi, dipende da, vuol dire tre secondi a settimana più o meno. E con i miglioramenti diciamo tecnologici che ci sono stati da 2013 del primo, insomma, che se volete iniziato a lavorarci molto prima, dal punto di vista di un animatore, quanto ti ha permesso di cambiare un po' lo stile, di fare di più, di fare... Allora, ci sono alcuni tool che possiamo aggiungere alla produzione che ci permettono di fare delle cose meglio o più veloce, però sostanzialmente se un computer, se possiamo aggiungere, non so, tre core a un computer, cioè farlo più potente, i nostri rigger, cioè quelli che creano il personaggio all'interno, ci mettono dentro ancora più di qualche cosa e di conseguenza la velocità non cambia, cioè diventa più dettagliato, abbiamo la possibilità di fare più cose, però il tempo per il quale mi sono dedicato a uno shot resta più o meno lo stesso. Non c'è neanche il desiderio di accelerare questo processo, il desiderio è creare un prodotto di qualità e siamo uno dei pochi studi, insomma, che può permetterselo e sono contento che lo studio non vada a ottimizzare per il tempo, ma ottimizza per la qualità. La qualità. E c'è un personaggio a cui sei più legato di Frozen? Ma per il primo film ero molto legato a Christophe, ma devo dire che in questo film mi è piaciuto lavorare con Elsa. Con Elsa? Ho lavorato un po' con Anna e diciamo come personaggio principale penso per questo film mi piaceva più Elsa. Che ha avuto appunto un'evoluzione rispetto al primo, è più cosciente dei propri poteri, cos'è che ti è piaciuto di più di lei? Ma nel primo ero più confidente nell'animare un personaggio maschile, perché il personaggio femminile è complesso e la vedevo come una sfida, poi ho visto che invece posso farlo, riesco a farlo bene, di conseguenza Anna è un personaggio, sono molto diversi, Anna e Elsa hanno diverse peculiarità nelle loro caratteristiche, sia fisiche ma anche nel comportamento. Elsa è una sfida perché è un personaggio estremamente, dove le cose in lei succedono internamente, di conseguenza nell'animazione è una sfida riuscire a mostrare queste cose in piccoli dettagli, in Anna tutto succede all'esterno, nella sua gestualità, nelle sue cose, quindi per me è stata una bella sfida Elsa. Complimenti! Grazie. Alla prossima! Alla prossima!